La nozione di sussidiarietà è antica, più di quanto non si creda. Le prime forme e le prime formulazioni addirittura risalgono al 1300. Ma è col 1615 quando il filosofo del diritto Ugo Gorozio, olandese, pubblica un saggio nel quale dà la definizione che ancora oggi è in voga di sussidiarietà. La stessa cosa farà Althusius, altro famoso filosofo morale o filosofo della politica, che difendeva, siamo ancora nel 1600, la sussidiarietà come antidoto ai tentativi del sovrano di togliere libertà ai cittadini. Quindi all'inizio la sussidiarietà viene invocata come difesa della libertà, degli spazi di libertà dei cittadini. Allora le monarchie erano assolute, eccetera. Quando arriviamo ai tempi nostri, la sussidiarietà mantiene la propria definizione, che è quella che ormai tutti recitano, ma viene collegata soprattutto al modello di welfare che si intende realizzare. Quindi non c'è più un collegamento stretto con la libertà, perché nel frattempo le nostre società, dopo lotte che tutti sappiamo, a partire almeno dalla rivoluzione francese, si sono conquistati i diritti civili, i diritti di pensiero politico, eccetera. Quindi fino ad anni recenti la sussidiarietà riferita all'ambito del welfare ha assunto due particolari versioni, la verticale e la orizzontale. La sussidiarietà verticale significa decentramento. Gli organi centrali decentralizzano agli organi più vicini, direttamente vicini ai cittadini, una serie di funzioni. E questo lo si è capito subito, senza difficoltà alcune. La sussidiarietà orizzontale invece significa che l'ente pubblico, Stato, regioni, province, comuni e altri, non solo consentono, ma favoriscono l'aggregazione libera di soggetti della società civile, nel fornire servizi di un tipo o dell'altro e nel mobilitare la loro libera iniziativa. Questa nozione orizzontale di sussidiarietà, in effetti, anche se non veniva chiamata così, la troviamo nell'articolo 2 della Carta Costituzionale, che in una forma, ripeto, con un linguaggio diverso da quello che si usa oggi, però esprime questo. Ma nel 2001 la Carta Costituzionale, il titolo V, è stata modificata per far entrare, l'articolo 118 e 119, la sussidiarietà orizzontale, esplicitamente chiamata in questi termini. Ora arriviamo al punto, la sussidiarietà orizzontale è una grossa conquista, però non è sufficiente, occorre muovere un passo deciso verso la forma che appunto chiamiamo sussidiarietà circolare. Perché? Perché la sussidiarietà orizzontale va bene o andava bene, fin tanto che l'ente pubblico, quale che esso fosse, era dotato di risorse sufficienti per garantire la fornitura di servizi in risposta ai bisogni della gente. Quando questo è venuto meno da una decina d'anni da questa parte, soprattutto in questi ultimi anni, per le ragioni a tutti note della crisi economico-finanziaria, si è resi conto che le risorse dell'ente pubblico, sempre minori, non sono in grado di soddisfare il requisito dell'universalismo. Allora, in questo contesto di scarsità di risorse, è evidente che la sussidiarietà orizzontale da sola non garantisce più l'universalismo. che vuol dire l'accesso ai servizi nei diversi comparti, dalla sanità, l'assistenza, l'educazione, eccetera, a tutte le persone che occupano e vivono in un territorio indipendentemente dal loro censo. Perché con la sussidiarietà orizzontale, nella natura della sussidiarietà orizzontale, non c'è il requisito dell'universalismo. Ecco allora perché in questi ultimissimi anni è emersa la nozione di sussidiarietà circolare. E l'idea è semplicemente questa. Pensiamo ad un triangolo. Un triangolo a tre vertici. Ogni vertice rappresenta una delle tre sfere delle nostre società. L'una è la sfera cosiddetta pubblica, la sfera occupata dagli enti pubblici. L'altra è la sfera della business community, cioè della comunità degli affari, rappresentata dal mondo delle imprese, di tutti i tipi, di tutti i settori. Il terzo vertice è invece occupato dai soggetti della società civile organizzata, che noi ancora continuiamo a chiamare terzo settore, ma che riguarda evidentemente le forme dell'associazionismo di volontariato, associazionismo di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, questo variegato mondo. Ebbene, l'idea della sussidiarietà circolare è tutta qui. Questi tre vertici devono interagire fra di loro sia nel momento della progettazione degli interventi, sia nel momento della gestione dei servizi. Cioè dire che non basta che i tre vertici dialoghino fra di loro per la gestione, come ora sta avvenendo. Bisogna che il dialogo venga portato più a monte, e cioè ci deve essere dialogo nella progettazione, o se vogliamo nella programmazione degli interventi. Questa è l'idea base della sussidiarietà circolare, e questa ci aiuta a capire le difficoltà di implementazione. Perché? Lo sappiamo perché. Perché la sfera che rappresenta l'ente pubblico dice io sono il sindaco, io sono ministro, oppure sono il governatore della regione, sono stato eletto, comando io. E quindi decido io. Perché io ho avuto il consenso popolare dai cittadini che mi hanno espresso. E' chiaro che se perdura questa concezione che è tutto che meno che democratica, è ovvio che la sussidiarietà circolare non potrà decollare. Fintanto che i rappresentanti si considerano come dei, con tanto poca, a seconda dei casi, arroganza dei semi dei che sanno loro quello che bisogna fare, è ovvio che la sussidiarietà circolare non potrà decollare. Ma è vero anche per gli altri due vertici. Il mondo delle imprese ti dicono noi dobbiamo fare profitti, noi dobbiamo curare la nostra attività di impresa. Perché mai dovremmo occuparci del bene comune? C'è l'ente pubblico, cui spetta spagliatissimo, perché il bene comune non c'entra niente con il bene collettivo. L'ente pubblico si occuperà del bene pubblico o del bene collettivo, ma il bene comune è un'altra cosa, come chi ha un po' di cultura dovrebbe sapere. E ce n'è anche per il terzo vertice, quello dei soggetti di terzo settore, i quali evidentemente in tutti questi decenni, in Italia come all'estero, hanno svolto la funzione dell'operatore sociale. Uno potrebbe chiedermi cosa c'è di male. Di male c'è che operatore sociale vuol dire un soggetto che opera su commissioni di qualcun altro. Non dico che con un rapporto di subordinazione, no, ma la logica non cambia molto. Cioè dire, i nostri soggetti di terzo settore, con rare eccezioni, operano su, starei per dire, commissioni di qualcun altro, tipicamente dell'ente pubblico. E quindi cosa è successo? Che questa gente, che è generosissima, che avrebbe secondo me, perché ne conosco tantissimi, un potenziale enorme, non riescono ad esprimerlo, perché sono stati abituati a obbedire, a eseguire quello che qualcun altro decide. e allora il punto è che questi soggetti devono passare dalla nozione di operatore sociale alla nozione di imprenditore sociale. Cosa vuol dire imprenditore? Vuol dire che devono avere la capacità di progettare, di creare, di innovare, senza dover dipendere per la loro attività dalle decisioni prese da altri. Quindi ecco qual è oggi la difficoltà della sussidiarietà circolare. Che l'ente pubblico vuol continuare a comandare perché ritiene di aver avuto l'investitura divina attraverso il voto popolare. Quindi è un recupero, in termini moderni, di una concezione antica, medievale, dell'autorità. L'immondo delle imprese si dichiarano non sensibili perché interessate soltanto a far quadrare i conti e massimizzare i profitti. E si ritengono che le questioni di natura sociale spettino ad altre. Il mondo del terzo settore che salvo rare eccezioni non ha ancora acquisito questa capacità imprenditoriale che vuol dire non fare profitti ma vuol dire essere capaci di innovare. Io vorrei chiedere a qualcuno perché mai nella realizzazione di determinati servizi si debba dipendere dalle decisioni di qualcun altro. Ebbene la sussidiarietà circolare dice che ci deve essere un dialogo continuo. Ecco perché si chiama circolare tra i tre soggetti. In un dialogo usando il metodo deliberativo. Penso che tutti sappiano cosa sia la democrazia deliberativa. Cioè il dialogo non è la conversazione. Ci vuole evidentemente una regola per evitare anarchie, per evitare inefficienze. Ma questo dialogo mette tutti e tre i soggetti sullo stesso piano. A questo tavolo a forma di triangolo nessuno può alzarsi e dire io sono più importante di te, taci tu che decido io, oppure io non metto i soldi e così via. Ho motivo per concludere di ritenere che nel prossimo futuro non saprei però dire quanti anni ancora ci vogliono questo possa realizzarsi. Perché? Perché la gente si sta stufando. Perché quando la gente vedrà che il vecchio modello di welfare non garantisce più né la qualità né la quantità di certi servizi, nel senso cioè che non garantisce se non i livelli essenziali di assistenza, è ovvio che comincerà ad aprire gli occhi e a capire che non è che manchino le risorse, mancano le risorse pubbliche, ma ci sono le risorse private. E allora dobbiamo mettere in campo queste risorse. E per mettere in campo queste risorse bisogna andare a prenderle dove sono, cioè dalle imprese. ma per prenderle dalle imprese bisogna fare in modo che le imprese siano coinvolte nel processo decisionale. Ecco il senso della circolarità. E allora quando queste cose diventeranno chiare e più si realizzano. Io preferirei che si realizzassero prima piuttosto che dopo. e per concludere in questo processo che è un processo di portata epocale il ruolo del terzo settore del volontariato è fondamentale. Perché? Perché ha il ruolo dello starter. Lo starter è quello che mette in moto la macchina. La macchina in questo caso è dialogica. Deve essere il volontariato con le giuste forme, con la pazienza, ma anche con la determinazione necessaria che tra virgolette deve costringere gli altri due vertici a sedere al tavolo. Perché il volontariato lo può fare. Perché non suscita sospetto. Perché tutti hanno ammirazione per i volontari. Perché sanno perché lavorano, come lavorano, eccetera. Quindi nessuno può dire voi fate questo perché volete ottenere questo o quel risultato. Ecco perché in questo momento storico la funzione del volontariato è fondamentalissima. Non solo per quello che ha fatto e continua a fare con grande dedizione, ma soprattutto perché può essere l'elemento di rottura di un vecchio equilibrio e facilitando così la transizione ad un nuovo equilibrio. Il volontariato non deve sostituirsi al pubblico. Per questo che io continuo a insistere sulla novità della sussidiarietà circolare. perché nel modello di sussidiarietà circolare ognuno mantiene la propria identità, la propria funzione. Quello che cambia è il modo di. E' fino adesso che il problema della sostituzione si è posto. Perché se noi continuiamo con la sussidiarietà orizzontale e basta succederà che il mondo della società civile si sostituirà. perché il pubblico non avrà risorse sufficienti per assecondare tutte le richieste e allora il mondo dell'associazionismo soprattutto il volontariato interverrà per sostituirsi. E questo è sbagliato, sbagliato, sbagliato. Anzi, è immorale che qualcuno ne dica. È immorale. Quindi, non dico che è illegale ma è immorale. È contro una norma morale di comportamento. Quello che il volontariato deve fare è di appunto cooperare con gli altri due vertici. Cooperare non vuol dire sostituirsi. Cooperare vuol dire che se in un particolare momento c'è un'emergenza io, volontario, posso anche decidere di fare il doppio di quello che ho fatto. Ma lo faccio non perché l'altro si deresponsabilizza. l'altro vertice in questo caso il vertice pubblico si deresponsabilizza. Ma lo faccio perché c'è un'emergenza e l'ente pubblico deve riconoscere questo che siamo in emergenza e riconoscere quindi non solo nel senso della gratificazione che consiste nel consegnare una medaglia o un diploma. Queste sono ipocrisie che devono finire perché si utilizza l'attività del volontario e poi per sdebitarsi o lavarsi la coscienza si dà la medaglia. Questa è un'ipocrisia che non è più tollerabile. Quindi ecco perché continua a insistere che bisogna attuare la sussidiarietà circolare. È un po' quello che viene in una famiglia. Ma l'idea è semplicemente in una famiglia se un figlio vede che i genitori sono in difficoltà mica si sostituisce però aumenta l'intensità del suo contributo se si tratta ovviamente di un figlio in età adulta eccetera. In altre parole e qui arrivo al punto decisivo il principio che è alla base della sussidiarietà circolare è il principio di reciprocità. Ecco il punto. È la reciprocità che deve essere messa in atto non la filantropia perché la filantropia è un atto unilaterale da me verso di te. La reciprocità invece è un atto bilaterale che non è però un rapporto di scambio è un rapporto di reciprocità. Quindi il volontariato non solo non deve mi corrego non solo non è bene che si sostituisca ma non lo deve fare perché questo corrisponderebbe ad un arretramento perché verrebbe meno il requisito dell'universalismo e l'universalismo delle prestazioni è stato in Italia come altrove una grande conquista di civiltà.